Mi hanno mandato molti sms che non sorrido, ma io ieri non sorridevo per rispetto al loro dolore, ma visto che oggi hanno detto che pareggiano, adesso rido proprio, di gusto proprio. Allora, io comincio col dirvi questo. Noi avevamo chiesto in questa campagna elettorale un segnale di cambiamento. Il segnale è venuto in modo inequivocabile, quindi noi chiederemo nel ballottaggio che venga rafforzato e confermato.